Lui è Mareschi Aniello! 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 Bravo! Sei già una superstar! Vieni qua! Ti abbiamo portato l'asta, meno male che te l'abbiamo portata perché è servita tanto! Meno male! E sennò ti trovi in difficoltà! Allora Mareschi Aniello, tu hai 12 anni, ti comporti già come un adulto, come un signore, potremmo chiamare il signore degli Aniello per dire! Grazie mille! Fantasia! Facciamo un applauso! Bravo! Grazie mille! Bravo, bravo, bravo! Grazie mille!